signori buongiorno e benvenuti sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e dopo un'intera stagione di assenza ritorniamo sulla rubrica il d20 system che ci eravamo lasciati alle spalle ma lo facciamo sempre per andare a parlare di sandbox e nello specifico rispondere a una domanda che diciamo che anche se con varie coniugazioni mi avete fatto in molti durante questa pausa estiva ma nello specifico diciamo che questo video lo dovete a don vecchi che è quello che ha avuto l'idea di parlarne in maniera approfondita in pratica molti di voi mi avete chiesto come si fa a mettere in parallelo un sistema come quello è il d20 che richiede molta preparazione ed è estremamente rigido con uno stile come quello del sandbox che invece prevede massima libertà da parte dei giocatori come si fa a fare andare d'accordo queste cose in realtà è possibile anzi diciamo che il d20 in generale ma dungeons and dragon nello specifico è uno dei sistemi più usati in assoluto per fare un sandbox quindi è il caso di parlarne probabilmente servirà più di un video ma cominciamo questa settimana andando a vedere in linea generale la relazione che c'è tra il grado di sfida e la griglia tattica non starò a perdermi troppo un'introduzione ma per chi non conosce il d20 system e vuole comunque seguire il video il grado di sfida è un valore numerico che indica quanto all'interno del gioco una specifica creatura sia forte o in linea generale quanto un incontro sia difficile un party affronta sempre gradi di sfida che siano intorno a quello che è il suo livello medio del gruppo in parole povere un party di quattro personaggi di quarto livello affronterà incontri di grado di sfida 4 questa è ovviamente una incredibile semplificazione ma diciamo che c'è già tutta una serie di video dedicati vi rimando a guardare quelli non starò a perdere tempo ulteriormente in questo video perché diciamo vediamo che per scontato questo concetto si è già assodato quando andiamo ad applicare il d20 system a un sistema di sandbox diciamo proprio una mappa x scroll pensata per l'esplorazione ci si trova di fronte a un problema il d20 system prevede che i giocatori affrontino sempre incontri con un range molto stretto di grado di sfida intorno al loro livello medio del gruppo ma un x scroll è pensato per fare in modo che i giocatori si spostino liberamente sulla mappa principalmente senza richiedere il consenso del master di conseguenza come fa il master a preparare degli incontri che abbiano un grado di sfida appropriato per il livello del party se non può sapere quale sia il tipo di incontro della zona in cui questi incontri andranno a essere effettuati nel corso degli anni sono stati sviluppati vari metodi in questo video andiamo a vedere i tre principali il metodo probabilmente più diretto è quello di rendere il grado di sfida degli incontri totalmente indipendente dalla zona della mappa in cui il party si trova in questo caso quanto sia difficile l'incontro viene deciso dal master o comunque da chi prepara la mappa in maniera del tutto indipendente sia da cos'altro c'è sulla mappa sia da cosa c'è e quale sia la difficoltà delle zone intorno questo probabilmente il metodo che permette la maggiore verosimiglianza dato che se voi nel mondo reale vi metteste a camminare in mezzo a una foresta potreste incontrarci un coniglio del tutto innocuo come un orso che vi fa fuori con un singolo colpo il problema però è che è una costruzione degli incontri di questo tipo li potrebbe rendere veramente frustranti per i giocatori per un party qualunque sia il suo livello un incontro troppo facile o troppo difficile non sono incontri interessanti da avere quindi il party che gira per la foresta incontra il coniglio o l'orso non saranno interessati a nessuno di questi due incontri se però il party è più interessato alla verosimiglianza dell'ambientazione piuttosto che alla sfida tattica dei singoli incontri probabilmente questo è il modo preferibile se decidete di usarlo però sarebbe comunque meglio indicare almeno in linea generale ai giocatori dove si trovino gli incontri estremamente difficili o estremamente facili appunto per usare diciamo per evitare le peggiori sorprese questa è una cosa che può anche essere fatta in maniera mimetica all'interno della quest stessa non c'è bisogno che voi come master di certi giocatori non andate sulla montagna che c'è il grado di sfida venti e non andate nella pianura che tanto ci sono solo pecore un grado di sfida un mezzo quando i giocatori vanno nel villaggio gli abitanti al villaggio diranno loro a in cima alla montagna nessuno è mai tornato a raccontare quello che c'è e a normalmente gli avventurieri evitano quella zona perché non c'è niente interessante per loro il metodo più utilizzato perché è quello che bilancia grosso modo le necessità di avere scontri tatticamente interessante con il fatto di mantenere una coerenza del mondo di gioco e quello di far dipendere il grado di sfida dalla zona della mappa in cui gli avventurieri si trovano questo è anche un metodo ampiamente usato anche al di fuori del gioco di ruolo ovviamente avrete giocato sicuramente a un videogioco la cui mappa funziona in base a questa logica nella pratica la mappa di gioco viene divisa in regioni e ogni regione viene assegnato un grado di sfida o un range di grado di sfida in questo modo il party sa qual è la zona della mappa che è meglio per loro andare a esplorare in base a quello che il loro grado di sfida in un determinato momento e sanno anche qual è la zona in cui dovranno spostarci successivamente quando avranno guadagnato nuovi livelli oltre a dare alla mappa un flavor molto videoludico diciamo così il problema di questo metodo di gestione è che se sulla mappa sono presenti più zone di livelli simili è molto probabile che alcune di queste o la maggior parte di queste verranno semplicemente saltate se esistono tre zone con un grado di sfida compreso tra il 4 e 6 i giocatori andranno in una di queste raggiunto il livello 4 e ne usciranno al livello 6 se ce ne sono altre tre non vanno interesse ad andare a esplorarle perché sapranno già che contengono incontri che sono o troppo semplici o troppo difficili per loro soprattutto se oramai la zona l'hanno saltata non ha senso andare a fare queste che gli danno meno punti esperienza e meno tesoro normalmente per ovviare a questo problema si utilizza un metodo di costruzione della mappa in cui le zone di difficoltà crescente si si irradiano rispetto al punto di inizio della quest in pratica man mano che il party si allontana dal punto e dove ha iniziato ad esplorare più il grado di sfida previsto per la zona salirà in questo modo l'aumento di difficoltà degli incontri divenne una proprietà organica della mappa in pratica più ci si allontana più i mostri diventano difficili questo metodo funziona particolarmente bene se oltre alla natura meccanica dell'aumento del grado di sfida la cosa viene anche giustificata in fiction cioè viene dato un motivo per cui la zona iniziale sia relativamente più sicura e man mano che ci si allontana da essa le cose diventano sempre più difficili e poi diciamolo se un escrowl è pensato per esplorare la zona c'è un motivo per cui più ci si allontana dalla zona conosciuta meno informazioni si hanno il terzo e ultimo modo almeno di quelli di cui parleremo in questo video è quello di basare il grado di sfida esclusivamente sul livello del party e utilizzare la mappa solo per caratterizzare quale sarà questo incontro in parole povere se il party di basso livello va nella foresta incontrerà delle creature di basso livello tipiche dell'ambiente della foresta se il party di alto livello va nella stessa identica foresta incontrerà creature di alto livello tipiche dell'ambiente della foresta questo sicuramente è il metodo meno coerente e rende tutto il mondo di gioco molto meno coerente diciamo dal classico effetto videogioco soprattutto quando i giocatori ritornano in una zona in cui non è già passata e la trovano popolata di creature totalmente diverse quando il party è partito dal villaggio al primo livello lì vicino c'era il dungeon coi goblin e quando ci ritorna mesi più tardi al decimo livello il dungeon adesso è abitato da giganti del fuoco il suo vantaggio indiscusso però è che tutti gli incontri che il party dovrà affrontare saranno sempre almeno tatticamente per loro interessanti dato che saranno sempre incontri grosso modo è lo stesso livello del livello medio del gruppo se il party è più interessato agli incontri di combattimento la sfida tattica o comunque non è particolarmente interessato al wall building magari più interessato alle relazioni tra i vari personaggi questo probabilmente il metodo migliore perché i giocatori non si annoieranno mai volendo giustificare la cosa il master potrebbe comunque premettere all'inizio che in realtà verranno giocati solo esclusivamente gli incontri interessanti il party farà anche altri incontri ma quelli troppo facili li vincerà in automatico e quelli troppo difficili sarà per forza coschetto a scappare e quindi non appariranno mai in quest perché non verranno giocati ovviamente anche possibile mischiare questi metodi tra di loro magari il grado di sfida dipende dalla zona della mappa ma un particolare punto della zona ha un grado di sfida molto più alto molto più basso perché in quel punto avviene qualcosa di particolare magari c'è una micro regione all'interno di una regione più grande in cui essendoci una città non ci sono incontri perché le guardie pattugliano e poi anche in una regione con un grado di sfida molto basso però c'è una singola casella con un grado di sfida altissimo perché lì vive il bosso quello che è le possibili combinazioni sono letteralmente infinite e questo video invece sta durando oramai già troppo senza contare che questo video io non lo sto registrando in tempo reale è stato registrato ad agosto quindi il computer mi sta scoppiando al caldo è meglio che finisca qua adesso comunque la parola sta a voi ditemi come voi gestite il grado di sfida nelle mostre mappe Xcroll ovviamente se lo utilizzate se utilizzate il sistema se non lo utilizzate perché non lo utilizzate come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete che vi arrivino le notifiche se le notifiche non vi arrivano comunque trovate in descrizione il link al server di disco e al gruppo di telegram dove metto io i video manualmente dove trovate anche il resto della comunità del mastercae ogni tanto si organizzano sessioni dei giochi più strani per il resto io sono il mastercae noi ci vediamo nel prossimo video